Il Senato rinuncia a decreto ritirato a troppo stretti i tempi della conversione in legge rispetto all'agenda dettata da Monti. Il governo torna sui propri passi e rinuncia alla riforma. Si salva la provincia di Isernia. Investito a Cerro, muore il pensionato. Non ce l'ha fatta il 71enne travolto da un furgone a pochi passi dal cimitero. Pasquale Savaiano è deceduto al Neuromed. Negativo l'alcol test effettuato sull'uomo che lo ha investito. Consumi in calo, feste al risparmio, lo rivela un'indagine dell'ADOC che dispensa consigli su come evitare gli sprechi. I molisani spenderanno il 3% in più per mangiare nelle festività natalizie. Appuntamento di Natale con il film di De Sica. Presentato a Napoli colpi di fulmi nel cinepanettone di Aurelio De Laurentiis. Con Cristian nei panni di uno psichiatra che si finge prete e la regia di neri parenti. Telemolise a Coverciano, rieletto Ulivieri. Il tecnico confermato alla guida dell'Associazione Allenatori ricorda anche le partite contro il Campobasso. In serie di domani l'Isernia in campo ad Arezzo. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando della sopravvivenza della provincia di Isernia. perché ci sono delle novità in arrivo da Roma dove il governo ha ritirato il decreto sull'accorpamento delle province minori a causa dell'enorme quantità di emendamenti presentati al Senato. Ma ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Nata da una crisi di governo e salvata da un'altra crisi, tutto a distanza di 42 anni. Si tratta della provincia di Isernia inserita nel decreto del governo Monti che accorpava le province minori a quelle più grandi. La buona notizia di oggi è che il decreto che riorganizzava le province italiane non sarà convertito in legge. E quanto è emerso dalla seduta della Commissione Affari Costituzionali che si è tenuta a Roma. Commissione e governo hanno preso atto della quantità di emendamenti e sub-emendamenti presentati al provvedimento e hanno ritenuto che non fosse assolutamente possibile approdare in aula come stabilito dal calendario del Senato. Il governo Monti, ha commentato il ministro Patroni Griffi, ha fatto quello che poteva. Oggi ha preso atto della situazione. A questo punto sarà necessario probabilmente scogitare una norma che coordini le disposizioni sulle province previste dal decreto Salva Italia e dalla spending review. Ma si tratterebbe di una soluzione raffazzonata che va contro gli interessi di decine e decine di parlamentari che si stanno già preparando sul territorio alle nuove elezioni. La sensazione comune è che la provincia di Sernia e con essa tutte le realtà minori d'Italia per ora l'hanno fatta franca. Difficilissimo pensare a una soluzione in extremis. Non la voterebbe praticamente nessuno. Di riordino delle province se ne parlerà, se se ne parlerà, solo nella prossima legislatura. Si stringono i tempi per le elezioni regionali ma Gianfranco Vitagliano spinge per approvare subito la nuova legge elettorale. Intanto l'assessore punta a un posto al Parlamento. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Le dimissioni annunciate da Mario Monti accorciano i tempi delle elezioni e dunque si voterà nel mese di febbraio. Forse il 17, se Giorgio Napolitano scioglierà le camere entro fine anno. Nonostante i tempi ristretti però, anche per le regionali, a Palazzo Moffa c'è chi spinge per approvare subito la nuova legge elettorale. Al di là dei tempi che stringono, per approvare una legge elettorale credo che ci voglia molto poco. Basta una buona seduta abbastanza lunga e di buon confronto. Ci sono alcuni elementi sui quali se non ci si esprime attraverso una legge si potrebbe creare un'ipoteca terribile sul prossimo risultato elettorale. Non vorrei che nasca un altro cittadino elettore che fa il ricorso e poi torniamo un'altra volta alle urne. Quindi chi ci deve pensare ci pensi bene. Però la maggioranza non è sindorizzata sulla proposta Niro o comunque su una nuova legge elettorale. Ma non è un problema della proposta Niro che tra l'altro è una proposta meritevole e per l'iniziativa e per i contenuti. Il problema è che ci sono alcune necessità ed urgenze che vanno soddisfatte. Lo stesso Presidente ha invitato tutti ad elevare il dibattito culturale a non perdersi sugli argomenti che diciamo hanno carattere come dire voluttuario di interesse specifico. A qualcuno manca la consapevolezza che si tratta di interventi di necessità e di urgenza. Non vorrei che la mancanza di alcune decisioni espresse attraverso la legge elettorale da parte del Consiglio regionale costitiscano un'ipoteca sul risultato elettorale. Intanto è stato convertito in legge il decreto Monti che taglia il numero dei consiglieri e le indennità. Per quanto riguarda il numero noi abbiamo già provveduto con legge e con lo statuto in prima lettura quindi dobbiamo almeno fare la seconda lettura dello statuto che credo già sia all'ordine del giorno del Consiglio. C'è poi un dato di fatto che non consente attese io ne ho parlato stamattina con il Presidente siamo pronti a presentare la proposta per l'adeguamento delle indennità e delle spese dei gruppi consigliari. Voglio solo ricordare che già avevamo proceduto in quella direzione noi abolendo i vitalizi e riducendo per ben due oltre l'indennità. Dobbiamo fare un ulteriore passo per adeguarci e credo che sia un dovere oltre che politico etico farlo prima possibile. Gli osservatori più attendi indicano in Gianfranco Vittagliano il prossimo candidato al Parlamento. Non sono in grado di disegnare il futuro in questo momento voi sapete bene viviamo tutti un momento di grande contingenza politica sia a livello locale che a livello nazionale però non nego che mi piacerebbe molto questa esperienza e mi sentirei pronto a dare il mio impegno e il mio lavoro per il Moris a Roma. È tornato in riunione il Consiglio regionale. La seduta è cominciata con la presa d'atto delle dimissioni di Paolo Frattura e con il conseguente ingresso in aula di Massimiliano Scarabbeo che nelle ultime elezioni fu costretto a cedere il posto al candidato presidente del centrosinistra nonostante le sue 2400 preferenze. Ecco vedete in queste immagini l'aula ha poi cominciato il confronto monotematico sul piano sanitario elaborato dalla quarta commissione ed ha accettato all'unanimità la pregiudiziale presentata dal consigliere del PD Michele Petraroia il quale ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno anche la discussione sulla proposta di piano presentata dal commissario Filippo Basso. Il confronto è ancora in corso e sono stati già molti gli interventi che hanno preso le distanze dalla riorganizzazione soprattutto ospedaliera proposta dal commissario. La sinistra è un sindaco di sinistra come Ugo De Vivo devono impedire che alla guida del consiglio comunale di Isernia venga eletto un esponente della destra storica come Giovan Carmine Mancini. Lo hanno detto in conferenza stampa gli esponenti del comitato antifascista di Isernia il servizio ancora di Enzo Di Gaetano. A ricordo di piazza Fontana definita una strage di Stato e come monito per il sindaco di Vivo e la sinistra presente in consiglio comunale Giovan Carmine Mancini, esponente storico della destra Isernina non deve ricevere l'appoggio dei voti della sinistra qualora si candida la presidenza del consiglio comunale. Questo è il messaggio lanciato a Isernia davanti alla prefettura dal comitato antifascista italiano e dall'unione degli studenti. In primo piano, come ha ricordato Celeste Caranci anche la solidarietà ai ragazzi di sinistra denunciati per aver cantato Bella Ciao in occasione della manifestazione di Casa Pound. Ma oggi, in tempi così difficili, l'anniversario di piazza Fontana deve restare un ricordo incancellabile. Per questo, domani, 12 dicembre, l'appuntamento di tutti gli antifascisti è alla biblioteca romano. Abbiamo a che fare ancora con uno Stato che non ha avuto nessuna remora ad usare le stragi e a usare il terrore contro i propri cittadini. Questa manifestazione, quindi, del 12 non è solo come un fatto di memoria ma anche per stare in campo con le iniziative sia contro il fascismo che contro il terrorismo di Stato. Non a caso la facciamo anche qui a Isernia dove qualche tempo fa sono stati denunciati sette antifascisti di essersi opposti ad una manifestazione dei cosiddetti fascisti del terzo millennio e anche per ribadire il nostro no affinché persone che vengono da quell'estrazione culturale e politica come Giovan Carmine Mancini venga, come si dice almeno venga eletto come Presidente del Consiglio Comunale di Segna quindi no al terrorismo di Stato e no al neofascismo e la data simbolo di tutto questo è come sempre il 12 dicembre. La cronaca adesso è inchiesta sull'arsenale e il traffico di armi scoperte nel luglio del 2011 nel garage di un'abitazione del centro di Termoli è stato rinviato al 26 febbraio a Larino il processo che vede imputati Felice D'Eugenio Ferrazzo padre e figlio riconducibili all'omonimo clan dell'Andrangheta calabrese i due erano presenti questa mattina la prima udienza che si è svolta al Tribunale di Larino Tangenti mascherate attraverso le sponsorizzazioni alle squadre di calcio il sistema è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Isernia che ha indagato per corruzione e reati fiscali l'ex sindaco di Pizzone è illegale rappresentante di una società che ha vinto numerosi appalti del Comune ai piedi delle Mainarde i dettagli dell'operazione sono stati illustrati durante una conferenza stampa convocata dal procuratore capo Paolo Albano la seguita Sergio Di Vincenzo la procura di Isernia l'ha definita un'abile opera di ingegneria del falso dal 2001 al 2011 nel periodo in cui Michele Cozzone era sindaco gli appalti del Comune di Pizzone li vinceva sempre la stessa ditta la Socem il cui rappresentante legale Giovanni Farrocco importo complessivo dei lavori 3 milioni e mezzo di euro a insospettire la Guardia di Finanza il passaggio successivo ossia le sponsorizzazioni a due squadre di calcio delle serie minori da parte della Socem la Cerrese e l'Aurora Pizzone per un totale di 700 mila euro i soldi venivano gestiti direttamente dal team manager ossia l'ex sindaco di Pizzone vi è stato un sistema di corruzione, di illegalità abbiamo scoperto che tutti gli appalti, tutti gli appalti pubblici dico tutti, venivano esclusivamente e unicamente affidati sempre alla stessa società la stessa ditta, la stessa impresa della Socem dell'ingegnere Farrocco partiti da questo elemento già inquietante perché chiaramente era impossibile che tutti gli appalti venissero vinti sempre dalla stessa società la Guardia di Finanza, ripeto, ha indagato a lungo e ha portato alla luce questo sistema corruttivo che poi si è collegato, abbiamo accertato, era collegato strettamente con il mondo dello sport venivano da parte del Farrocco versate somme ingentissime a titolo di sponsorizzazioni che ovviamente invece di finire nelle casse della società ed erano somme assolutamente sproporzionate per una piccolissima squadra finivano invece nelle mani del sindaco e queste sponsorizzazioni, questi versamenti non erano altro che il prezzo della corruzione I reati ipotizzati sono di corruzione e reati fiscali Procure e Finanza hanno accertato un presunto danno erareale per il Comune e l'uso di fatture per operazioni inesistenti Nei confronti dei due indagati è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni immobili e immobili anche di pregio per oltre 900 mila euro L'inchiesta non è ancora conclusa La Procura sta valutando le posizioni di altri indagati Nel frattempo il caso è stato segnalato alla Procura della Corte dei Conti Purtroppo non ce l'ha fatta Pasquale Savaiano l'uomo di 71 anni originario di Cerro al Volturno che nel tardo pomeriggio di ieri è stato investito nelle vicinanze del cimitero della frazione San Vittorino l'uomo soccorso dal 118 è stato trasportato d'urgenza al veneziale di Isernia dove è giunto in coma in serata è stato disposto il trasferimento dal neuromed di Pozzilli al neuromed di Pozzilli dove poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Castel San Vincenzo il conducente del furgone che ha investito il pensionato si è fermato a prestare soccorso è stato anche sottoposto all'alcol test che ha dato esito negativo incidente ieri sera anche lungo la tangenziale di Termoli dove in prossimità di un semaforo una macchina è rimasta schiacciata tra un pullman e un tir per i due passeggeri dell'auto è stato necessario il trasporto in ospedale con un'ambulanza della misericordia mentre solo tanta paura per una ventina di passeggeri che si trovavano a bordo dell'autobus diretto a Trivento sul posto sono intervenuti polizie e carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause del tamponamento di cui stiamo vedendo queste immagini torniamo a parlare del concorso annullato dal TAR per la nomina dei presidi in Molise perché i legali che hanno vinto il ricorso al Tribunale Amministrativo hanno incontrato oggi i giornalisti a Campobasso per annunciare nuove azioni legali Giuseppe Lanese La battaglia legale è solo all'inizio e probabilmente si allargerà anche ad altre zone d'Italia la decisione del TAR di annullare l'intera prova del concorso per la nomina dei presidi in Molise ha scatenato infatti un effetto domino nelle altre regioni dove i migliaia hanno partecipato alle selezioni 2.700 e posti in palio da dirigente scolastico di cui 16 disponibili in Molise il comitato degli aspiranti presidi nato in regione ha organizzato un incontro oggi con i giornalisti a Campobasso insieme ai legali che hanno curato il ricorso e a una delegazione di insegnanti arrivata dal Lazio sono stati 372 i partecipanti al concorso in Molise di cui 62 hanno superato le preselezioni e 11 sono arrivati fino in fondo ma la sentenza del TAR ha rimesso tutto in discussione almeno in primo grado di giudizio i vizi sollevati nel ricorso presentato dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini sono stati una ventina il TAR però si è fermato ad uno solo ritenendolo sufficiente e che riguarda la presenza in commissione di una rappresentante sindacale della CGL per i legali del comitato degli aspiranti presidi ci sono abbastanza elementi però per andare avanti l'avvocato Iacovino in particolare ha annunciato di essere pronto a rivolgersi alla Procura e alla Corte dei Conti per fare ulteriore luce sulla vicenda dall'altro lato si muovono anche i legali dei vincitori del concorso per la nomina dei presidi per il momento annullato per i loro legali questi ultimi sono del tutto estranei alla irregolarità riscontrata il TAR spiegano gli avvocati ha preso in considerazione una sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna ma ha invece ignorato un identico precedente del Consiglio di Stato peraltro più recente a questo punto la sentenza del TAR Mulise sarà impugnata al Consiglio di Stato mentre arriva la notizia che solo in Sicilia 700 docenti che hanno preso parte al concorso sarebbero pronti a loro volta a impugnare il risultato al TAR insomma come abbiamo detto lo scontro legale è solo all'inizio hanno giurato fedeltà alla Repubblica i 149 agenti della scuola allievi di polizia di Campobasso e altri ne arriveranno a breve per nuovi corsi dunque scongiurato il rischio chiusura della scuola sentiamo agenti del 180 per essere il rivoluzzo lo giurano voi? lo giurano! i 149 hanno giurato fedeltà alla Repubblica usciti appena dalla scuola allievi agenti di polizia di Campobasso ad un accadeva da tre anni ed è stata un'emozione grande per i giovani poliziotti i loro familiari i vertici della polizia e le tante autorità presenti tra cui il prefetto Gerardo Cautilli direttore centrale degli istituti di istruzione accompagnato dal direttore della scuola allievi agenti di Campobasso è una celebrazione della continuità dell'attività della scuola impegnata a formare i nuovi agenti che sono in futuro per la nostra amministrazione per la polizia di stato saranno i nuovi cittadini tra i cittadini vestiti con un'informe che rappresenta una storia rappresenta la nostra tradizione e la volontà di far bene e di essere vicini cittadini a breve altri giovani arriveranno nella scuola di polizia di Campobasso pronti a indossare la divisa la scuola di Campobasso continua a prestare la sua opera perché a fine anno entreranno altrettanti giovani per un altro corso in una sequenza piuttosto lunga di corsi che nel futuro ci saranno quelle voci di cui si era detto della chiusura della scuola sono sicuramente passate nel nel dimenticatoio diciamo solenni decisi perfettamente schierati tre di loro hanno ricevuto i premi per essersi distinti ai corsi poi tutti e 149 hanno dato prova della loro disciplina e organizzazione imparata il loro corso dedicato a Giuseppe Iacovone il poliziotto morto in provincia di Isernia mentre inseguiva un SUV che non si era fermato al posto di blocco un riconoscimento un ricordo è stato consegnato ai genitori della gente all'ingresso della scuola allievi due poliziotti a cavallo da caserta e le macchine che hanno fatto la storia della polizia messi a disposizione da un appassionato sono nove e le ho presi in trent'anni nelle aste della polizia me le sono aggiudicate le ho conservate le metto a disposizione a titolo gratuito alla questura per le feste della polizia e alla scuola per il giuramento della scuola di polizia partirà alle 19 di questa sera e terminerà alle 7 di venerdì prossimo lo sciopero dei benzinai sulla rete stradale ordinaria sulle autostrade invece la sospensione del servizio sarà dalle 22 di questa sera alle 22 di venerdì 14 il tentativo del sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti di scongiurare l'agitazione che potrebbe portare particolari disagi a imprese e cittadini in questi giorni prenatalizi non ha avuto successo i gestori infatti avevano posto come condizione il pagamento da parte delle compagnie di due centesimi a gestore come acconto sulla futura contrattazione disponibilità che evidentemente non c'è stata e pertanto lo sciopero si farà ma i rifornimenti potrebbero essere a rischio anche nella settimana prima di Natale inoltre tra il 25 dicembre e Capodanno per gli automobilisti non sarà possibile pagare il pieno attraverso le carte di credito e il pago Bancomat a Termoli protestano i dipendenti delle borse lavoro che denunciano ritardi nel pagamento degli stipendi se i soldi non arrivano faremo una catena umana davanti al municipio hanno detto ma dal comune arrivano rassicurazioni Fabrizio Eccionero 500 euro al mese a tempo determinato per lavorare nei vari servizi gestiti dal comune ambiente cultura lavori pubblici e altre attività organizzate nell'arco di sei mesi sono 29 persone che sono state selezionate con il sistema delle borse lavoro in base a requisiti come disabilità soggetti svantaggiati e altre situazioni di indigenza questi lavoratori lamentano però ritardi nel pagamento degli stipendi e chiedono al comune di rispettare gli impegni siamo qui perché tutti i mesi che dobbiamo percepire lo stipendio e tutti i mesi è un ritardo e veniamo qui sempre a fare la solita elemosina invece di essere puntuali sono proprio uno non dice la puntualità almeno un po' di normalità un gruppo di lavoratori si è recato in comune dove ha incontrato anche i consiglieri di minoranza siamo pronti a rinunciare i gettoni di presenza nelle commissioni e invitiamo anche la maggioranza e la giunta a fare lo stesso affermato il consigliere di opposizione Antonio Giuditta se non vi pagano cosa succede? noi verremo tutte e 29 famiglie e faremo una catena umana perché noi il mese scorso è stato promesso che pagavano l'8 dicembre noi abbiamo rispettato i nostri patti loro devono rispettare i loro patti noi daremo un giorno di tempo poi di che verremo all'oltranza tutti i giorni qua intanto il sindaco Antonio Di Brino fa sapere che si tratta di un ritardo di soli 5 giorni e che il comune ha già predisposto il mandato di pagamento non appena ricevuto l'ok dalla regione entro la fine di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima i soldi arriveranno assicurato Di Brino parliamo adesso delle prossime festività natalizie quest'anno la spesa alimentare dei molisani crescerà di circa il 3% ma bisognerà evitare gli sprechi consiglia l'ADOC l'associazione dei consumatori sentiamo Marcella Tamburello La crisi economica a Natale subisce una frenata sono tanti quelli che non riescono a rinunciare ai regali anche se si tratta di semplici pensierini di pochi euro ma la spesa più alta come sempre i molisani la faranno con il carrello alimentare per quest'anno l'ADOC l'associazione per la difesa dei consumatori ha stimato per ogni famiglia un aumento del 2,9% rispetto allo scorso Natale per i cenoni che accompagneranno le festività ogni famiglia spenderà in media 175 euro in più rispetto al passato in nome del risparmio e della sostenibilità però l'ADOC ha stilato una serie di consigli per evitare sprechi alimentari sottolineando l'importanza dei prodotti locali a chilometro zero contro quelli esteri come champagne e frutti esotici l'ADOC ha inoltre evidenziato la necessità di acquistare solo l'essenziale preferendo la qualità alla quantità cercando di non buttare gli avanzi e facendo la spesa a piccole dosi evitando anche le offerte spesso illusore di molti supermercati molti alimenti devono essere conservati in frigo o nel congelatore per garantirne una durata più lunga e quando la spesa è eccessiva consiglia ancora l'ADOC possono essere donati anche alle associazioni di assistenza per i più bisognosi a Natale quindi tutti seduti a tavola per gustare i prodotti della cucina molisana ma con un occhio alla spesa per evitare inutili sprechi protestano i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia di via D'Amato a Campobasso per il mancato funzionamento dei riscaldamenti nella struttura non si sa ancora se la causa sia dovuta ad avaria o a una riduzione dell'orario di accensione dei termosifoni intanto è stato avvisato l'ufficio comunale competente Cristian De Sica nei panni di uno psichiatra che si finge prete per paura di avere guai con il fisco e si rifugia in un paesino del Trentino Alto Adige il diplomatico Greg che vuole a tutti i costi assomigliare a un popolano per conquistare la donna di cui si è innamorato per caso sono gli ingredienti di colpi di fulmi nel film di Natale prodotto da Aurelio e Luigi De Laurenti per la regia di Neri Parenti Giuseppe Carriera ha incontrato il cast alla prima del film a Napoli che sarà nelle sale il 13 di dicembre sentiamo Carlo sono già arrivati che faccio scappo come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione come fratello ti dico scappa e cambia identità trovati un rifugio insospettabile con il ciac ufficiale di Cristian De Sica siamo nuovamente a parlare di un film che esce a Natale ma non è il classico film di Natale colpi di fulmine allora Cristian parliamo innanzitutto dei colpi di fulmine quello tuo è un po' particolare in questo film beh è un colpo di fulmine per un maresciallo dei Carabinieri che grazie a Dio non è carotenuto ma è Luisa Ranieri quindi va detto bene e andiamo è una straordinaria attrice insieme a noi c'è anche Arisa che è la mia perpetua e Simone Barbato che è quello Mimo di Zellig sono la perpetua di Dondino Dondi 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 e basta questo Dondi 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 ricordo un pochino i film degli anni 50 60 italiani dove c'era un piccolo paese il prete il baresciallo quegli elementi lì quell'ottimismo soprattutto di quel cinema lì lei adere le faccio vedere allora guardi stia normale stia normale non c'è problema tanto io c'era la fantasia il nostro episodio è la storia di un di un ambasciatore molto colto che parla tre lingue che si innamora di una pescivendola e chiede a me che sono il suo autista che invece di estrazione popolare come si fa a diventare popolani a bella e mi avvicino caracollando ecco caracollo si ricorda tutto il peso sulle arche ecco io sono di testaccia la pescivendola è di Borgopio però insomma sono abbastanza attigui come Rioni per cui non cambia molto si fa semplicemente ascoltando molto vivendo la vita vera prendendo autobus e non come dire rinchiudersi dentro il mondo fatato e di cristallo del nostro privilegiatissimo lavoro lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto andando sulle montagne russe del cuore forse può essere estremamente divertente perché è proprio da questo andare up and down che può nascere una grandissima comicità e un grandissimo divertimento questo film farà scoppiare un colpo di fulmine in il cuore di tutto quanto buon Natale nuovo appuntamento per la rassegna termoli musica giunta all'ottava edizione al pianoforte si esibita Cinzia Bartoli con le opere di Chopin e Ravelli il concerto organizzato in galleria civica riscosso un buon successo di pubblico e di critica l'iniziativa è stata curata dal direttore artistico Giuseppe Nese con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Termoli prossimo evento il 16 dicembre con il quartetto Accademia segnali di ripresa Termoli dove dopo un anno di chiusura ha riaperto la Benetton Sisley il punto vendita è stato rilevato da una coppia di Ischitella che impuglia già diversi negozi del marchio crediamo nelle potenzialità di questo posto è stato il commento dei nuovi titolari intervistati da Manuela Ioreo segnali di ripresa a Termoli dove dopo un anno di chiusura ha riaperto il megastore Benetton Sisley la location è quella storica a corso Umberto I e già i primi giorni di apertura hanno fatto registrare il pienone a scommettere sulla città è una giovane coppia di Ischitella sul Gargano che da 15 anni lavora nel mondo del commercio i due giovani Giuseppe Basile e Filomena Ventrella hanno investito nonostante il momento di crisi credendo nelle potenzialità di un territorio e di un marchio che nella zona è sempre andato bene abbiamo iniziato questa nuova avventura abbiamo cercato di investire qui nel Molise era già oramai un anno che Benetton era chiuso e abbiamo riaperto sperando nel Termolese nei Termolesi nell'Interland che sia una buona cosa per tutto il popolo del Molise quasi mille metri quadrati dedicati all'abbigliamento uomo donna bambino vastissimo e coloratissimo l'assortimento per l'intera famiglia già diverse le promozioni all'apertura i Termolesi insomma sono stati molto contenti gentili entusiasti insomma di questa apertura quindi positiva i primi giorni di apertura positivissimi noi abbiamo altre attività commerciali anche c'è un'altra Benetton a Eschitella in provincia di Foggia a Bico del Gargano il Sisley a Peschici abbiamo insomma entrambe le attività quindi è una società ormai consolidata la nostra la Benetton è stata chiusa per un anno e alcune delle commesse che non avevano ancora ritrovato lavoro sono state assunte dalla nuova gestione la riapertura ha attirato la curiosità di tante persone e degli affezionati che da un anno per comprare un capo a marchio Benetton Sisley erano costretti ad andare a Pescara sono contentissima perché mia figlia riesco a vestirla solo nei negozi Benetton Sisley il primo giorno di acquisti sia per vedere un po' il negozio dato che ha riaperto dopo un anno e anche per eventuali acquisti natalizi sono entusiasta è una bella realtà come al solito la Benetton non si smentisce è un bel regalo di Natale il comune di Campobasso tra patto di stabilità spending review e crisi economica di questo si parlerà stasera nella puntata di accarte scoperte in programma in diretta come sempre alle 21.20 ospiti di Lino Venditti l'assessore al bilancio e finanze Aldo De Benedittis il capogruppo del PD Antonio Battista e Donato Toma commercialista e revisore contabile Moliseacque ha comunicato che a causa dei lavori sul molisano centrale domani a partire dalle 9 non ci sarà acqua nei comuni di Mirabello San Giovanni Ingaldo Toro Campo di Pietra e Ferrazzano compresa la nuova comunità l'acqua che mancherà anche nei consorsi dovrebbe tornare in giornata nella giornata di domani In chiusura vi chiediamo di aiutarci a ritrovare un cane che si è smarrito da alcuni giorni a Campobasso in contrada Selvapiana ecco vedete le foto è una femmina si chiama Stellina è il microchip timorosa per carattere non si lascia avvicinare molto facilmente chi ne avesse notizie può come sempre mettersi in contatto con la nostra redazione è tutto termina qui il nostro TG dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per il flash intorno alle 15 arrivederci